Salve a tutti amici, in questo video vediamo come completare la missione Il segreto di Sagono su Zelda Tears of the Kingdom Siamo al villaggio Finterra e questa è la casa di Sagono Dobbiamo parlare con Sofora per ottenere la missione Ci dirà che dobbiamo aspettare la notte, semplicemente Quindi cosa fare? Andiamo qui dietro, nel caso piovesse invece andate sotto una tettoiera a qualche parte E facciamo un fuoco Se invece è sera potete aspettare tranquillamente le 22.10 Che è l'orario di uscita della tizia Quindi qui prendo un fascio di legna Eccolo qua giù Lo andiamo a posare qui E poi facciamo il fuoco Quindi in questo caso Frutto igno, faccia infuocata ed ecco fatto Bene quindi andiamo a bivaccare fino alla sera E una volta fatto Ci andiamo a collocare laddove possiamo vederla senza essere visti Ovviamente Uno dei posti ideali è qua dietro questo fungo Quindi rimaniamo qui e aspettiamo Io mando avanti adesso un po' il gioco Però c'è da aspettare un minuto Neanche perché alle 22.10 Eccola che esce Bene quindi Aspettiamo che si allontani un attimo E procediamo verso quel fungo State molto lontani perché a un certo punto comincerà a girarsi Ecco quando dice qui devo fare attenzione Questa distanza è sicura Come potete vedere non ci vede Però non userei andare più avanti Ecco adesso invece avviciniamoci un pochino E la vedremo andare dietro questo edificio Aspettiamo che lei entri O almeno che Vada dietro Ecco fatto Ora siamo liberi Ci avviciniamo E cosa facciamo adesso Dobbiamo arrampicarci fino alla finestra Quindi andiamo su Non so quanto tempo c'è comunque fate veloce Arriviamo qui Abbassiamoci E vedremo un filmato Capiremo qual è il suo segreto Lo spuntino notturno Gnam Aspettiamo la fine del filmato E poi possiamo andare di sotto Io ne approfitto anche per Spaccare un po' quelle casse C'è una mela e qualcos'altro Quindi Se volete potete farlo Mela E qua cosa c'è? Fercia di legno Perfetto Adesso Ci basta andare A parlare con la ragazza All'entrata della casa Si sarà fatto mattino Quindi lei sarà qui E così Andiamo a completare La missione Ecco qui Perfetto Ricompensa Dieci chiodoni E missione completata Spero di essere stato utile Ci vediamo Al prossimo video Spero di essere stato utile Spero di essere stato utile Spero di essere stato utile